A me non me ne frega niente se la gente non gli piace i miei video, non commenta o non fa niente. Io mi diverto così, mi passa il tempo a fare così, io non è che è un lavoro, per me non è un lavoro, è un hobby, un passatempo. Faccio lo scemo, per gli altri sono scemo, bene, faccio lo scemo, faccio lo scemo. Tanto a me mi devono piacere i video, io li devo montare, io li devo fare, no gli atti, se gli piacciono gli atti benvenga, se non gli piacciono a me, io mangio e bevo e dammi lo stesso. Non è che io sto male per gli altri, se gli atti gli piacciono, bene, commentano, bene, mettono i like, va bene, condividono, va bene, non fanno niente di tutto ciò, fa niente, io vivo lo stesso. Ma quelli di fan club non devono pubblicare falsità e commentare le cose che offendono, perché a me questa cosa non mi sta bene, perché io chiamo la polizia postale e lo faccio a chi dovere e lo faccio correlare e basta, perché mi sono rotto veramente il cazzo. Io non sono quello in cui c'è scritto Lillo Mangano fan club, io sono Lillo Mangano punto e basta. Questo è il programma mio personale, non Lillo Mangano fan club, quello è un fake, è un fake del merda. Ciao, alla prossima, perché mi sono rotto il cazzo.